Torna nei prossimi due weekend di maggio nell'area espositiva del porto turistico l'ormai tradizionale appuntamento con Pescara Baby City e Senior City, il salone dei bambini e della famiglia, prima e vera fiera senza età, cura della Camera di Commercio di Pescara in collaborazione con Confesercenti. Numerosi espositori per trattare diverse tematiche che spazieranno dalla salute alla cultura, dallo sport alla cucina, al gioco e a molto altro ancora, due manifestazioni concepite per offrire informazioni, consigli e risposte ai giovani e ai meno giovani. Sarà possibile anche effettuare nel corso della Cermessa anche screening medici gratuiti con la misurazione della pressione, il controllo dell'udito e della vista ed esami di prima istanza. Siamo alla sesta edizione di Pescara Baby City, la quarta di Senior City, ma diciamo che è un format ormai consolidato che ha dato ottimi risultati, una presenza importante, quello che conta è che chi c'è stato l'anno scorso torna, per cui sono 70 espositori che ci auguriamo che il tempo ci dia una mano, ma diciamo che siamo quasi tutto, tutta la mostra è al coperto, per cui non dovremmo avere problemi come con la mostra dei fiori, insieme alla Confesercenti, insieme alla società Dama che ci supporta dal punto di vista organizzativo, abbiamo raggiunto dei livelli di grande qualità e molto apprezzati sia dalle aziende che dalle mamme in particolare.